Ho lavorato tanto quest'estate, sto vedendo i frutti del lavoro, ovviamente ancora all'inizio Però diciamo che non mi aspettavo di essere a questo punto già, quindi sono contenta Sì, ho ancora qualche difficoltà sui contatti, sulla difesa ancora aggressiva Però dicono tutti che è normale, quindi sono tranquilla, sono cose che vengono anche giocando, pian piano arrivano Due settimane si sta lavorando proprio tanto sulla difesa, bene Dopo l'amichevole che abbiamo fatto a Palma, che non era andata tanto bene Si vede appunto il miglioramento che c'è stato anche nella scorsa partita Quindi stiamo lavorando forte e si vede Sono una buona squadra, noi abbiamo fatto una buonissima amichevole Senza dubbio, abbiamo fatto vedere che stiamo lavorando bene Insomma, adesso domani ce ne sarà un'altra Vediamo come loro ritorneranno in campo dopo questa prima partita